Ricostruire quei momenti diventa non solo complicato, ma lavori dentro e allora ricordi tutto, però è necessario. È il giorno dei consulenti della pubblica accusa sostenuta in aula dal procuratore capo Roberto Rossi. Questa mattina ad Arezzo si è infatti celebrata una nuova udienza del processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa d'Imperia, morta precipitando dal sesto piano di un hotel delle Baleari il 13 agosto 2011. Sarà interessante sentire i vari testi del consulente della procura e relazionare sulle operazioni per Italia che hanno svolto. Sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca e D'Alessandro, accusati di morte in conseguenza di un altro reato, ossia la tentata violenza sessuale. Per l'accusa infatti la ragazza non si sarebbe suicidata, bensì sarebbe caduta nel disperato tentativo di sfuggire da un tentativo di stupro. I primi a prender parola sono stati il professor Marco Di Paolo, medico legale che eseguì accertamenti disposti in seguito all'esumazione della salma nel maggio 2014 e la genetista Isabella Spinetti. Sarà poi il turno dell'ingegner Marco Sartini che ha curato una perizia sulla tragica caduta del tossicologo Carlo Bottari, che invece ha eseguito degli accertamenti secondo i quali la studentessa, quella tragica notte, non avrebbe fatto uso di stupefacenti e sarebbe stata sobria. Affrontiamo pezzo per pezzo tutti i ragionamenti che vengano avanti cercando naturalmente di dare i giusti indirizzi e anche di tirar fuori la verità, dal di dentro e dal di fuori. Grazie.